Bene, allora cominciamo con il compito che erano gli esercizi del libro degli esercizi. Allora, di che cosa sono questi esercizi? Di quale materia? Stiamo vedendo di pronomi indiretti, però. E i pronomi indiretti servivano per non ripetere il nostro complemento indiretto. E come si sapeva qual era il nostro complemento indiretto con due domande? A chi? O a che cosa? È molto più comune trovare il a chi, ma a volte si trova il a che cosa. Bene, ricordate che noi i pronomi li dobbiamo imparare a memoria, non c'è niente da fare. Nei pronomi indiretti erano mi, si, gli a lui, le a lei, ci, vi e gli a loro. Qual è sempre la posizione dei pronomi? Sempre prima del verbo. Il pronome, possiamo dire, vive prima del verbo. Allora, il matrimonio ha fatto veramente bene a lui. Allora, io vado a cercare nei miei pronomi indiretti a lui, gli. E lo mettiamo prima del verbo. Il matrimonio gli ha fatto veramente bene. Ok? Era un piccolo, piccolo ripasso prima di cominciare con, con il compito. Ok. Bene, avete fatto tutti il compito? Sì? Tutti ce l'avete? Sì. Ok, allora, soledà, no. No. Bene. Ok, allora, Cecilia e Italo. Bene. Cecilia, comincia tu con la numero uno. Numero uno. Se piace questo vestito, puoi prenderlo. Se ti piace questo vestito, puoi prenderlo. Perfetto. Se piace a te questo vestito, puoi prenderlo. Se ti piace questo vestito, puoi prenderlo. Super. Italo. Fra poco, fra poco verrà Aldo e chiederemo come stanno le cose. Fra poco verrà Aldo e Gigi chiederemo come stanno le cose. Esatto. Fra poco verrà Aldo e Gigi chiederemo come stanno le cose. Ok. Bene, Cecilia. Da, da, da. Sì, sì, vai, vai, vai. Signorina, telefono a lei domani. Signorina, le telefono domani. Perfetto. Le telefono con le maiuscola domani. Super. Italo. Signor direttore, confermo che l'appuntamento è per domani alle sette. Signor direttore, le confermo, con maiuscola le, le confermo che l'appuntamento è per domani alle sette. Perfetto. Le confermo. A lei, vedete che sempre lei signora, signorina o lei signore, maschile o femminile, è sempre lo stesso le. Le, le telefono, le confermo. Ciao, Patrizia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, Patrizia. Stiamo, stiamo correggendo il compito, non so se l'hai fatto. No. No? Ok, continuiamo con Cecilia e Italo. Cecilia, la numero cinque. Sono sicuro che il mio regalo piacerà a lui. Sono sicuro che il mio regalo gli piacerà. Perfetto. Sono sicuro che il mio regalo gli piacerà. Super. Italo. Che cosa ha offerto Marianna? Che cosa vi ha offerto Marianna? Perfetto. Che cosa vi ha offerto Marianna? Bene. Signora Olga, presto a lei il signor Orsini. Signora Olga, le, con mayuscula, presento il signor Orsini. Perfetto. Le presento il signor Orsini. Bene, e finalmente Italo. I vigili hanno spiegato come arrivare in centro. I vigili ci hanno spiegato come arrivare in centro. I vigili ci hanno spiegato come arrivare in centro. I vigili. Ecco. super. Bene. Bene. Questo è molto semplice. Il numero due. Semplicemente dobbiamo mettere il pronome necessario. Allora, Cecilia. Allora, Cecilia, la numero uno. Quando verrete vi faremo vedere la nostra città. Ecco. Quando verrete vi faremo vedere la nostra città. super. Italo. Perché quando ti parlo non mi ascolti mai? Benissimo. Perché quando ti parlo non mi ascolti mai? Bene. Cecilia. La tua idea mi piace tantissimo. Benissimo. Ricordate sempre il verbo piacere con i pronomi indiretti. Bene. Italo. Il meccanico ci consegnerà la macchina fra due settimane. Bene. Cecilia. Mio nipote è un ragazzo d'oro e io gli starò sempre vicino. Perfetto. Però. I soldi che abbiamo vinto ci permetteranno di fare una bella vacanza. Super. Cecilia. Mariella mi scrive una lettera ogni settimana. Super. C'è la lettera? Le manderò un mazzo di rose per scusarmi. Perfetto. Allora questo è un classico della pronuncia. Le rose, rosse. La prima ha una sola S. Allora rose. Invece la seconda ha due. Rosse. Rose, rosse. Rosse. Bene, finiamo con questo. Cecilia. Mi dispiace, ma devo andare via. Mi dispiace, dispiace a me. Bene. Italo. Mi presti il tuo libro di storia, per favore. Benissimo. Mi presti, tu presti a me il tuo libro di storia. Bene. Cecilia. Ogni è il compleanno di Lorenzo. E gli regalo un bel CD di musica italiana. Gli regalo, o a me verrebbe meglio un futuro, no? Gli regalerò. Ah, già. Gli regalerò. Bene. Pintano. Per Natale noi gli... spediamo un biglietto di auguri. Sì. Anche qua, occhio, dipende. Se io lo faccio sempre, tutti i Natali, lo diciamo al presente. Per Natale, sempre a lui gli spediamo un biglietto. Se parliamo invece di questo Natale, quello che viene, sarebbe... Gli spediremo al futuro. Però bene. Se lo facciamo sempre, il presente è corretto. Bene. Cecilia. Scriverò un'email e gli spiegherò la situazione. Perfetto, gli spiegherò la situazione. Scriverò un e tutto insieme e con accento nella E che si pronuncia come I, un'email. Ah, un'email. Ecco, scriverò un'email e gli spiegherò la situazione. Angela ti vuole bene perché sei un bravo ragazzo. Perfetto. Angela ti vuole bene, lei vuole bene a te perché sei un bravo ragazzo. Super. Cecilia. Signor Rossi, le chiedo un favore per mio figlio e le con maiuscola. Perfetto. Le chiedo un favore per mio figlio. Benissimo. E Italo l'ultima. Mamma, ti prometto di essere buono. Perfetto. Un classico dei figli. Prometto di essere buono. Bene. Ciao, buongiorno. Ciao, Natali. Abbiamo compagna nuova, mi sa. Buongiorno. Forse ha problemi con il microfono. Intanto andiamo avanti e poi salutiamo. Mi sa che abbiamo compagna nuova. Bene. Allora, andiamo all'altro libro, libro per l'occurrente, alla pagina 152. 152. Ed era rimasto come compito l'esercizio 7. E' molto simile, no? Osservando la tabella, ricostruite le frasi secondo l'esempio. Ho fatto una sorpresa a Chiara, a lei. Le ho fatto una sorpresa. Bene. Allora, aspettate. Ecco. Cecilia. A Letizia e a me interessano i documenti. No, i documentari. Perdoni. Perdoni, documentari. Lo scrivi male. Sì, documentari. Ci interessano i documentari. Esatto. A Letizia e a me, sarebbe a noi. A noi ci interessano i documentari. a noi. Italo. Lorenzo telefonerà a Giovanna alle 10. Lorenzo le telefonerà alle 10. Allora, Lorenzo telefonerà a Giovanna a lei alle 10. Lorenzo le telefonerà. Cosa regali ai tuoi amici? Cosa gli regali? Benissimo. Cosa regali ai tuoi amici? A loro? Cosa gli regali? Italo? A te, purtroppo, non scrivo molto spesso. Purtroppo, non ti scrivo molto spesso. Perfetto. Purtroppo, non ti scrivo molto spesso. Chiederò a Beppe di aiutarmi. Gli chiederò di aiutarmi. Perfetto. Gli chiederò a lui di aiutarmi. Signora Berti, a lei sembra logico tutto ciò? Signora Berti, lei, con maiuscola, sembra logico tutto ciò? Ciò sarebbe una forma di dire quello. Le sembra logico tutto quello, tutto quello che non so che è successo o che hanno detto, eccetera. Super, allora, quello era il compito. Avete dubbi? Avete domande? Qualsiasi cosa che volete chiedere? No? No, no. Super. Italo? È difficoltoso per me identificare il soggetto delle frasi. In generale o solo con queste frasi? Ok, sì, perché visto che noi qua siamo concentrati nei complementi indiretti, a volte il soggetto diventa un po' secondario. Ok? Come nella prima dice, a Letizia, a me interessano i documenti, diciamo, ci interessano, interessano i documenti. Allora, per esempio qua, per esempio, ci interessano i documenti. Allora, per esempio qua, il verbo Italo in quale persona è coniugato? che persona è interessano? No? No? E poi stanno rispondendo Italo. Loro. Loro. Loro, esatto. Loro, Italo. Loro interessano. Loro interessano. E chi sarebbe loro in questa frase? I documenti, eh? I documenti. Allora, il punto è che la frase è in un altro ordine, ma nell'ordine classico, classico sarebbe i documenti interessano a noi. Allora, il soggetto e i documenti. Ok? Ok, grazie. Per esempio, quale altro potrebbe essere? Beh, Lorenzo telefonerà a Giovanna Le Dieci, si capisce, è Lorenzo. Cosa regali ai tuoi amici? Chi è il soggetto Italo? Non so. Concentrati sempre nel verbo per sapere qual è il soggetto e il verbo quello che serve. Ah. E tu regali? Esatto, tu. Il soggetto è tu. 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 Tu regali. Che cosa? Purtroppo non ti scrivo molto spesso. Quale sarebbe il soggetto Italo? Io. Io, esatto. Purtroppo io non scrivo a te molto spesso. Chiederò a Beppe di aiutarmi, ovviamente io. Uh, nella save è curiosa. Signora Berti, a lei sembra logico tutto ciò? Lì è più complicato qual è il soggetto. Quale sarebbe il soggetto di quella frase? domanda per tutti? Domanda per tutti? Questa è domanda per tutti. Lei? No. No? Che sembra? Signora Berti? No. Ah, è tutto. Tutto ciò. Tutto ciò. Tutto ciò sembra logico. a lei allora il soggetto è tutto ciò e il complemento indiretto è a lei signora Berti a volte effettivamente non è chiarissimo qual è il soggetto però sempre dobbiamo prima chiederci o andare a trovare il verbo il verbo è quello che ci spiega che ci dice sempre quale è il nostro soggetto il soggetto e il verbo sono sempre collegati allora il soggetto dipende dal verbo il verbo dipende dal soggetto invece i complementi no i complementi non dipendono di niente di quello allora occhioli non confondere mai un complemento con il soggetto perché il soggetto può cambiare scusate il complemento può cambiare ma il soggetto no esempio nella 1 interessano i documentari a chi a noi a noi interessano i documentari ci interessano i documentari però potrebbe essere a me buongiorno buongiorno adesso sì Natali buongiorno benvenuta allora mi interessano i documentari allora i documentari interessano quello non cambia mai a chi nel senso il 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 complemento indiretto quello può cambiare a me mi mi interessano a te ti interessano a lui gli interessano e funziona con tutte le persone però il soggetto è sempre lo stesso ok un po' meglio se avete bisogno sempre ovviamente chiedetemi che lo vediamo insieme ok chiudiamo il microfono alla compagna nuova ok bene allora i pronomi diretti nei tempi composti scusate i pronomi oggi sono proprio i pronomi nei tempi composti diretti e indiretti allora per quello per per capire un po' quello dobbiamo ricordare come funzionavano i pronomi diretti prima di parlare dei pronomi indiretti perché sono due regole diverse ok e per fortuna per fortuna i pronomi indiretti sono più semplici in questo caso ok allora quando io per esempio dicevo ho comprato ho comprato una macchina questo una macchina nuova che tipo di che tipo di complemento è diretto o indiretto diretto diretto vero perché risponde al che cosa che cosa ho comprato ho comprato una macchina nuova e quale pronome usa questo questo complemento diretto la la benissimo e e quello che facevamo noi era mettere il la prima del verbo la ho comprato ma avevamo un paio di regole da seguire allora prima di tutto io con i pronomi diretti dovevo far coincidere il pronome con il participio vi ricordate? allora io dico invece di comprato dicevo comprata e numero due il pronome la e il pronome lo sempre 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 si contraggono allora io dico l'ho comprata quello l'avevamo visto due unità fa per esempio ho visto ho visto Anna e Mario all'università all'università in questo caso il mio complemento diretto era Anna e Mario loro maschile pronome li e l'unica cosa che dovevo fare era far coincidere il pronome con il participio dico li ho visti all'università il pronome lì e il pronome le non si contraggono mai però questi erano come dico i pronomi diretti invece torniamo adesso al libro e vediamo come si comportano i pronomi indiretti allora patricia leggimi per favore i pronomi indiretti le frasi pronomi indiretti e per a me a te a lui mi ha detto la verità ti ho spiegato tutto gli abbiamo regalato un basso cinese perfetto Soledad leggimi per favore a lei a noi e a voi le ho portato fortuna ci hanno prestato la loro moto vi ho telefonato più volte perfetto e Cecilia a loro gli ha spedito una lettera gli ho offerto un po' di torta perfetto allora avendo letto tutti questi esempi che cosa possiamo dire della regola dei pronomi indiretti nei tempi composti quale quale vi sembra che è la regola i pronomi indiretti usano sempre il participio al maschile singolare esatto esatto allora quando usiamo pronomi indiretti nei tempi composti il participio finisce sempre con o non dobbiamo non dobbiamo non dobbiamo stare attenti a se maschile femminile plural singolare no finisce sempre con o come la regola base del passato prossimo con il verbo avere possiamo vedere un po' come ripasso di quello che vi ho vi ho già passato adesso come come funzionava con i pronomi diretti allora Italo leggimi per favore lo stesso per me te è lui mi ha visto vista ieri ti ho convinto convinta l'ho conosciuto tempo fa perfetto allora con i pronomi diretti sempre dipendeva mi ha visto ieri ma se lo dice una donna mi ha vista ieri ti ho convinto Italo ti ho convinta Cecilia l'ho conosciuto tempo fa ho conosciuto lui allora dipendeva dal da chi era il pronome diretto come finiva il participio natalie benvenuta apri apri il microfono che l'ho spento io perché avevi un po' di rumore come va buongiorno buongiorno come stai come stai bene bene perfetto super benvenuta come sei se cansada stanca stanca cansada cansada super allora tra tra pochi minuti faremo una pausa poi ci presentiamo intanto mi puoi leggere le frasi per lei noi e voi queste qua che ho scritto che ho segnato natalie mi puoi leggere queste tre frasi per favore l'ho invitata a casa mia si ha chiamato Andrea e vi abbiamo presentato a tutti tutti sì sì tutto a tutti perfetto tutti tutto 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 tutti leo portati a casa leo prese in giro ose questo si fa un po' in spagnolo así che algo se può entender che ho ho aprendito un po' con la la pausini o se si no te si no tu ose uno può hablar fluido pero parliamo un po' ok sì mi enfermita se me fu la classe ok ok non ti preoccupare bene si tengo una amica che è italiana e algo mi va aiutar bene perfetto super bene adesso per adesso continuiamo continuiamo con la materia poi poi parliamo parliamo allora dice qua formulate le frasi sostituendo le parti sottolineate con i pronomi indiretti allora questo esercizio non è difficile nel senso semplicemente come sempre dobbiamo cambiare il il nostro complemento indiretto per un pronome indiretto ok allora questo lo possiamo fare direttamente senza darvi tempo patricia mi potresti dire la numero uno se vuoi prima leggila completa e poi mi rispondi con il pronome ho fatto vedere a nicola le foto della costiera amalfitana gli ho fatto vedere la foto della costiera amalfitana perfetto gli ho fatto vedere le foto della costiera amalfitana super allora semplicemente questo a nicola a lui lo abbiamo cambiato per un pronome e l'abbiamo messo come sempre prima del verbo ma non dobbiamo fare nient'altro non dobbiamo cambiare nient'altro super soledad vuoi fare tu la numero due abbiamo raccontato a Flavio a Flavio e a Nadia le nostre aventura avventure avventure abbiamo contato a Flavio e a Nadia gli il libro il libro sta sottolineando quale è il nostro complemento indiretto che è a Flavio e a Nadia ok allora che persona è a Flavio e a Nadia il sujeto no è il nostro complemento indiretto il libro sta sottolineando il complemento indiretto non dobbiamo neanche cercarlo è lì il nostro complemento indiretto è a Flavio e a Nadia però lo dobbiamo trasformare in una persona quando io dico a me a lui che cos'è a Flavio e a Nadia a lei no perché sono due sono due gli ok bene hai saltato un passo a loro a loro e a loro usa il pronome gli e dove va il pronome Soledad sempre il pronombre seria il pronome gli però dove va qual è la posizione del pronome sempre di tutti i pronomi qual è la posizione prima del verbo i pronomi vanno sempre prima del verbo e il nostro verbo è abbiamo raccontato gli abbiamo raccontato le nostre avventure esatto allora diciamo gli abbiamo raccontato non diciamo a Flavia e a Nadia perché stiamo usando il pronome le nostre avventure mi chiede mi chiede molto più chiaro super pensando con il ejercicio Cecilia la 3 ho inviato un telegramma di congratulazioni al dottor Marini gli ho inviato un telegramma di congratulazioni perfetto perfetto esatto gli ho inviato a lui al dottor Marini un telegramma di congratulazioni super Italo la 4 ho consigliato a mia sorella di non presentare di non frequentare frequentare quel ragazzo le ho consigliato di non frequentare quel ragazzo perfetto le ho consigliato a lei a mia sorella benissimo e Patrizia l'ultima il concorso darà alle ragazze l'opportunità di vincere una vacanza il concorso gli darà l'opportunità di vincere una vacanza esatto gli darà a loro ricordando che a loro dei pronomi indiretti è uguale se un loro maschile o femminile è sempre lì super benissimo ok avete domande avete dubbi di questa materia puoi ripetere la numero uno per favore perfetto ho fatto vedere a Nicola a lui le foto della costiera malfitana allora lì ho fatto vedere le foto della costiera amalfitana perché è G ah perché Nicola è un nome maschile come Nicola di Bari è un uomo sarebbe l'italiano per Nicolás Nicola sì è vero se fosse Nicola una donna sarebbe le però è lui a lui sempre sempre ricordate Nicola di Bari ok ok super grazie bene allora facciamo la pausa dieci minuti ci vediamo alle due e mezza va bene va bene